guarda Roberto, guarda, guarda oddio che succede? che succede? eh, avanti ah ah, capiamo, vedi che cosa stiamo facendo? sì, che stiamo facendo? guardiamo la televisione sì, guardiamo la televisione sì, sì allora? sì, tu non stavi guardando la televisione, avanti ah sì, poche parole, avanti avanti avanti? che cosa? avanti che cosa? usare io? no usare no, guarda allora, avanti ma vedi che usare matrimonio bravo ah, e ti pare che io posso perdere che oggi è l'anniversario? no non si può dire eh, usavo pure ciro eh ah, buono no, no, è vero, è vero oggi è l'anniversario sì, 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 sì quindi avanti che cosa? avanti un premio Nobel per pace dov'esti? il mio premio Nobel per la pace dove è? te prendere la chiave su una macchina che non c'è il premio Nobel ah, così tutto non c'è la macchina e io ho una bella pace senza pace ecco, ah, così tranquillo ah, che bello sei ignorante no tu sei sarbaggio matrimoniale chi sei lo problema? ecco va bene auguri marito certo sei felice? certo amore certo guarda che se stiamo fortunata l'anno prossimo io mi facciamo felice accaccurato ah, auguri è bene, auguri ecco